ciao ragazzi eccoci qua come vi dicevo il pacco che è arrivato oggi scopriamo subito cosa c'è all'interno della scatola tutta questa scatola per niente ovviamente tutto un ballaggio col tappetino questo tappetino della gemma s che ho acquistato su amazon ora lo apriamo ecco qui il tappetino è il suo diciamo usb che troviamo all'interno della scatola questo tappetino ha 14 illuminazioni praticamente e poi ha delle varie modalità di diciamo di illuminazione flash arcobaleno è grande 80 x 30 x 4 mm la superficie molto liscia quindi ottimizzata anche per praticamente il mouse e il riflessimento impermeabile adesso vediamo un attimino collegato come si presenta diciamo con la luce notturna come vedete già anche con la luce accesa si vede la colorazione allora con questo praticamente cambiamo le le modalità diciamo di illuminazione sfumato adesso spengo magari si vede di ecco qua magari si nota di più presenta colorazioni fisse e colorazioni diciamo che variano e poi ovviamente il pulsante di spegnimento il cavo usb diciamo che è molto lungo sarà circa un due metri quindi non è molto corto ma va benissimo ma va benissimo diciamo per collegarlo se avete il computer distante adesso vi lascio il link in descrizione per l'acquisto se siete interessati per qualsiasi domanda lasciatemi il commento ciao ragazzi ciao ragazzi